A parlare il consigliere Diaco, prego in dichiarazione di voto per tre minuti, noi a facoltà. Grazie Presidente, oggi un atto importante, per quale motivo? Noi abbiamo già mesi fa convocato una commissione sull'esquilino, chiaramente nel punto specifico, quello che è Piazza Vittoria, una piazza importante, una piazza storica dell'Ottocento, che oltre ad essere una semplice piazza, ha all'interno anche degli elementi storici e culturali molto importanti, quella è appunto la Fontana dei Rutelli e la Porta Magica. Noi abbiamo portato l'attenzione della Commissione Ambiente a Piazza Vittorio, perché oltre ad essere una piazza molto importante, richiede un'attenzione specifica. Ecco, possiamo dire che questa amministrazione con tanta volontà, oltre ai soldi stanziati dei fondi giubilari di 2 milioni e mezzo, ha investito altri soldi, all'incirca 375 mila euro, per garantire nel restyling della piazza, chiaramente, delle migliori in più. Ecco, questo è un punto importante di questa amministrazione, ed oltre a questo, quello che noi abbiamo richiesto è un piano di gestione, un piano di gestione puntuale del verde e dell'intera piazza. Questo insieme anche ai cittadini che hanno portato avanti un lavoro molto importante e puntuale. Possiamo aggiungere che i bagni, che sembra un elemento poco importante, ma invece è un punto fondamentale per quel quadrante, perciò anche per gli abitanti dell'esculione di Piazza Vittorio, perché i bagni rappresentano un servizio comunque essenziale per la cittadinanza. Oltre a questo possiamo dire che abbiamo avuto l'ok da parte di Ama, perciò questo passo avanti da parte di Ama per garantire una pulizia ordinaria dell'intera piazza. Ecco, questo è un qualcosa che diciamo anche con grande soddisfazione, perché l'assessore, l'assessore a Montanari, l'assessore a sostenibilità ambientale, da subito si è attivata per portare avanti queste stanze dei cittadini. Possiamo dire, diciamo con ultimo, che oltre a questo è non meno importante la sicurezza della piazza. Noi abbiamo denunciato anche il fatto del povero cane Zighi, che purtroppo è morto all'interno del parco di Piazza Vittorio, ecco noi l'abbiamo subito denunciato, perciò il punto della sicurezza è un punto molto fondamentale e focale di questa piazza. Vogliamo finire, insomma, ecco questo intervento o comunque sia questo atto che dà, diciamo, delle indicazioni, degli indirizzi molto chiari e specifici che comunque grazie anche al lavoro della Commissione Ambiente, della Commissione Lavori Pubblici, che ha dato degli indirizzi chiari insieme poi alla Commissione Trasparenza, che so che ha trattato il tema poco tempo fa, perciò ecco ci riteniamo soddisfatti di questo lavoro e noi votiamo a favore di questo atto, sperando che chiaramente anche i cittadini ci supportino per continuare a dare lustro e dignità a questa piazza. Grazie.